Ci sono delle lesioni meniscali che devono essere considerate urgenti e che quindi devono essere trattate subito al pari delle ferite, al pari delle fratture articolari. Queste sono delle lesioni che devono essere immediatamente riconosciute dal medico ortopedico mediante una diagnosi e successivamente attraverso l'intervento chirurgico è possibile riparare la lesione del menisco, evitando così interventi demolitivi in futuro che richiedono l'asportazione di frammenti meniscali o addirittura l'asportazione dell'intero menisco. Questo ha l'intervenire subito dunque un effetto protettivo nei confronti della cartilagine articolare, si cerca di mantenere tutte le strutture articolari e preservare l'articolazione il più lungo possibile.